Ciao ragazzi e benvenuti su Gastube Drums. Non riesco a tirare sul pacco di strumentimusicali.net come al solito ma ve lo faccio vedere direttamente dalla camera laterale perché forse è un po più semplice, avete già visto dal titolo che cosa c'è dentro quindi non è che vi voglio rompere le scatole dicendovi chissà che cosa c'è qua, no lo sapete già. Quindi andiamo ad aprire subito questi rullanti. Oggi voglio andare a vedere un rullante da 80 euro, un rullante super economico, come funziona e capire se ne vale la pena o se non ne vale la pena comprarlo e quindi bisogna andare un po più su di prezzo. Vediamo quali rullanti abbiamo per prima cosa. Allora tiriamo fuori dalla tasca, oggi, le forbici da unboxing, sempre quelle brutte e vediamo che cosa succede. Che figata potervi far vedere queste cose grazie strumentimusicali.net che tutte le volte mi manda dei prodotti super fighi cioè quello che voglio me lo manda così da farlo vedere a voi. Quindi grazie strumentimusicali.net come al solito ma le forbici mi riservano. Quindi apriamo questo primo pacco e vediamo cosa c'è dentro. Ah no facciamo in questo modo apriamo un pacco alla volta non vi dico tutti e tra i rullanti che ci sono ve ne dico uno alla volta quindi farò tre unboxing diversi e in questo primo unboxing troviamo un pearl nero e... ah che bella la chiavetta! Pearl export colore nero che non vedete perché è nero se io vado all'ombra non lo vedete giustamente e forse il rullante che costa meno rispetto a questi tre rullanti che vado a farvi vedere oggi. Andiamo direttamente alla batteria mando la sigla andiamo alla batteria e proviamo questo primo rullante Pearl export 14 x 5 e mezzo rullante con sei strati di pioppo e mogano spessore totale 7,5 mm ha otto tiranti questo cerchio e i rullanti di solito possono avere o dieci o otto tiranti di solito quelli più economici ne hanno otto man mano che si va su poi si arriva ai dieci tiranti però comunque con otto tiranti si può già fare tutto tranquillamente viene ovviamente dato scordato quindi adesso andiamo ad accordarlo in realtà è meglio così perché mi permette di dare una votazione migliore oggi voglio dare dei voti a questi rullanti in base ad accordatura suono sensibilità non mi ricordo il quarto che avevo pensato prima qualità prezzo che è una cosa molto importante perché non mi aspetto che questi rullanti suonino magari come un rullante da 600 700 euro ma voglio capire veramente qual è la differenza e se vale la pena comprare un rullante da 6 700 euro quindi prima cosa andiamo ad accordare vediamo la facilità di accordatura ok gli ho dato un accordatura di massima non sono stato lì troppo a fare le cose precise ma ho tirato un po sopra ho tirato un po di più sotto per capire giusto così come si comporta ovviamente l'unico problemino volendo se vogliamo è che ha un po di armoniche poi stando lì ad accordare eccetera un pochettino si possono togliere ma secondo me le armoniche usciranno sempre da questo rullante ma adesso proviamo a mettergli una mini moon gel io solitamente uso queste qua le ramo crowd ve le lascio qui sotto in descrizione e proviamo a metterne una e vediamo cosa succede con la cordiera come potete vedere sono sparite tutte le armoniche fastidiose quindi devo dire che suona veramente di brutto proviamo a tirarlo un po su adesso andiamo a un'intonazione media diciamo se andiamo su di intonazione cosa succede un po troppo stoppato stoppiamolo un po meno yeah mi piace anche con le armoniche adesso veramente veramente figo questo rullante per il costo che ha vi lascio ovviamente tutto qui sotto in descrizione mi piace soprattutto con accordatura media però ad esempio la prima che vi ho fatto sentire alto come adesso non è male però perde un po quelle armoniche fighe che ha questo rullante quindi il primo rullante che ho provato è una bomba ed è quello più economico di tutti andiamo ad unboxare il secondo continuiamo adesso con gli unboxing dopo aver visto il pearl passiamo a un altro super marchio che è Tama vediamo che rullante Tama c'è qui dentro allora qui saliamo un pochettino di prezzo ma veramente veramente di poco Tama dal colore super figo veramente figo questo colore quando l'ho visto su strumentimusicali.net ho detto quello lo voglio provare solo per il colore e per il prezzo ma guardate che figata il colore di questo rullante Tama non vi dico nulla e andiamo subito alla batteria per trovare questo rullante che figo Tama in pioppo grandezza 14 pollici per 6 e mezzo quindi un pochettino più alto rispetto al pearl di prima e allora anche questo rullante viene dato non accordato quindi andremo ad accordarlo lo vedete in questo questa finitura molto particolare che secondo me è una figata che è una finitura zebrata si chiama natural zebra wood wrap ha questa finitura ma all'interno ha otto strati di pioppo con uno spessore totale di 8 mm quindi filo filo più spesso rispetto al pearl di prima hardware nero che è sempre molto metallato devo dire l'hardware nero mi piace e vediamo anche questo accordandolo un filo come si comporta mi piace e vediamo anche questo Allora, questo ha le armoniche che però mi piacciono un sacco. Non so se ho preso l'accordatura giusta a caso, e questo è una buona cosa per l'accordabilità, ma mi piace veramente un sacco. Adesso proviamo a tirarlo giù, al contrario di quello di prima. Vediamo che cosa succede se lo buttiamo proprio giù come accordatura. Ovviamente dovrò mettergli anche una sordina, ma vediamo come si comporta. Allora, due sordine, l'ho tirato giù, questa è un po' la sfida per i rullanti economici, perché un rullante accordato bassissimo già di suo, anche se magari è un rullante costoso, fa fatica. Questo devo dire che si sente un po' di che magari bisognerebbe andarlo a cercare un po' con l'accordatura. Come vedete è super semplice a accordare, cioè avevo questo problema, ho provato in due o tre punti e è sparito. Però, veramente figo! Quando l'ho preso e l'ho messo su, devo ammettere che ho detto che questo rullante non suona. Appena ho arrivato una botta, ho alzato le mani. Andiamo con l'unboxing del terzo. Ultimo unboxing che andiamo a fare. Sempre super marchio, ovviamente oggi vi ho fatto vedere tutte cose economiche, ma sempre di marchi importanti, perché comunque... Aia, 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 aia. Per farvi capire che non è che quando si parla di Tama, di Pearl, eccetera, si parla solo di cose super fighe ma super costose. Questi marchi qua fanno anche delle cose, per giusto perché ho detto mille volte cose, economiche, ma che funzionano da paura. Vediamo se anche questo funziona da paura. Adesso qua andiamo su Yamaha. Che bello bianco, che bello bianco, mamma mia! Questo è uno Yamaha Stage Custom in birch, quindi in betulla. È bellico, bianco è bellico. Quanto è bello un rullante bianco, raga, quanto è bello. Andiamo a provare anche quest'ultimo, un po' più piccolino di quello prima, alla batteria. E vediamo come si comporta quest'ultimo. È il turno, quindi, del rullante più costoso di questi tre. Ovviamente siamo sempre a prezzi super economici, ma vediamo che comunque stiamo salendo di qualità già guardando questo rullante. Dieci blocchetti, invece che otto come i due rullanti di prima. Siamo con dei cerchi tripla frangia in acciaio e questo è un rullante da 14 pollici per 5,5 di casa Yamaha. Materiale, come vi ho detto, betulla e finitura pure white. Quindi, qua stiamo andando su effettivamente di qualità, mi sa. Adesso vado a provarlo. Accordiamo anche questo qua. Questo lo tiro un bel po'. Voglio vedere come si comporta nel momento in cui vado proprio a spingerlo in alto, in alto, in alto, in alto. Il rullante di prima l'ho spinto veramente in basso, questo qua gli do un bel boost in alto. Sentiamo come suona. Molto divertente questo rullante. È tirato a vetro, diciamo, però... Molto figo e veramente molto molto divertente. Tiriamolo giù, andiamo ad una cordatura media. Prima di tirar giù solamente la pelle battente. Prima di tirar giù solamente la pelle battente. Suona sempre, suona sempre. Allora, ho deciso di fare una prova. L'ho tirato giù veramente tanto, ma tanto che quasi, quasi, che riesco a muovere... Anzi, questa vita riesco a muoverla. Sono proprio mollissime le viti. E raga, suona sempre. Questo rullante suona sempre. Sono rimasto male. Quando l'ho tirato giù così tanto, questo rullante, e ho visto che suonava, ci sono rimasto male. L'accordabilità di questo rullante è senza senso. E anche la sensibilità. Non so cosa dire. Non so cosa dire. Andiamo ai voti. Quindi, ragazzi, è il momento delle votazioni. Devo dire che non mi aspettavo assolutamente di fare una recensione così semplice oggi. Cioè, mi sono arrivati tre rullanti economici. Ho detto, probabilmente sarà un disastro riuscire a far suonare questi rullanti. Perché io mi ricordavo, quando incominciavo a suonare la batteria, che i rullanti economici non suonavano. Per avere un rullante che suonava bene, dovevi andare su come fascia di prezzo. In realtà, questi tre rullanti qua, oggi, sono stati super. Questo, ammetto che è stato il mio preferito. Adesso poi vi do le votazioni. Perché ha veramente qualcosa in più. È quello che costa di più, anche se poi la diversità di prezzo tra questi tre rullanti è veramente minima. E potete trovarla andando qui sotto in descrizione a vedere i link ai prodotti. Ma... vabbè, è una figata sto rullante. Anche gli altri sono una figata, ma questo qua non ce n'è proprio. Votazioni. Allora, partiamo dal Pearl. Quest'è un'accordatura molto semplice da accordare. Si comporta bene su accordature medie e acute. Sulle basse lo lascerei un po' più stare. Ha bisogno, però, di una mini sordina. Perché le armoniche ogni tanto si fanno sentire e sono un pochettino fastidiose. Quindi, accordatura 8. Sensibilità super buona. Si possono suonare le gosse sia in mezzo a rullante, sia un po' sui bordi. Si sente sempre. Quindi, sensibilità, gli do tranquillamente 9. Suono, non male. Gli do un 8. E qualità-prezzo, gli do assolutamente 9. Quello che costa meno di tutti, ma non vale il prezzo che costa. Varebbe di più di quel prezzo. Quindi, gli do 9 tranquillamente. Questione Tama. Accordatura super, super, super semplice. Gli do tranquillamente 9, perché è un'accordatura ancora più semplice rispetto al Pearl di cui parlavamo prima. Suono e sensibilità. Sensibilità siamo un filo sotto il Pearl, perché ogni tanto perde un po' qualcosina. Quindi, gli do 8. Ovviamente, la sensibilità è buona, però rispetto al Pearl di prima, un filino sotto. Il suono, invece, è un po' sopra. Perché sia una accordatura media, sia una accordatura bassissima, come abbiamo sentito, si comporta bene. Gli do tranquillamente 8,5. Non gli do 9, perché per la accordatura bassa ho dovuto mettergli delle sordine per stoppare alcune cose un pochettino più fastidiose. Però, tenderebbe al 9. Qualità-prezzo? Rimango sul 9, perché è un gradino in più rispetto al Pearl, ma costa anche qualcosina in più. Questione Yamaha. Vi ho già detto che è il mio preferito. Qualità-prezzo? Gli do 9, perché è uno scalino in più di tutti, ma costa anche un filino di più. Raga, costa un filino di più, ma stiamo parlando di prezzi veramente bassi, ve l'ho già detto. Ma non vorrei che pensaste, ok, uno costa 90 euro, l'altro ne costa 200, no. Stiamo parlando veramente di poche decine di euro di differenza tra l'un l'altro. Accordabilità e suono, ragazzi, 10, 10, 10. Perché ad accordarlo è stato semplice, cioè a un certo punto l'ho accordato a caso, per vedere se suonava, e suonava anche accordato a caso. E per quanto riguarda il suono, sia un suono super acuto, sia un suono medio, sia un suono basso, me li ha tenuti tutti alla grande, e il suono basso senza neanche dovergli mettere una sordina. Quindi mi ha ammazzato questo rullante, devo ammettere. Sensibilità gli do 9, perché comunque si comporta da paura. I rullanti, quelli top di gamma, diciamo, hanno ancora quel gradino in più. Ma qui stiamo parlando di un rullante economico, quindi 9 se lo merita tutto. Qualità-prezzo? Forse l'ho già detto, 9, vabbè, non c'è problema. Comunque, vi metto qui in una schermata, da qualche parte, non so se di qua, di qua, da qualche parte, vi metto tutte le votazioni, vabbè, messe, tutte le votazioni col totale, così almeno potete capire bene, diciamo, la classifica. Io vi saluto qua e voglio ringraziare ancora strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità di provare questi rullanti e di avermi fatto capire che nel 2021 i rullanti economici suonano da paura. Mentre nel 2000, e che ne so, quando ho cominciato a suonare, i rullanti economici non erano da comprare. Quindi, comprate tranquillamente i rullanti economici. Sono contento perché molto spesso voi mi chiedete di dirvi un nome, di dirvi una marca, un modello di rullante economico. Finalmente so bene che cosa dirvi, perché questi tre rullanti fanno paura. Raga, provateli perché sono una bomba, ve lo assicuro. Figata, pazzesca. Quindi, qui sotto trovate l'articolo sul sito Gastube. Io vi invito, se vi va, a iscrivervi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Trovate tutto in descrizione i prodotti, tranquilli. Ciao! Ciao!